vogliamo contestare Faina un commento su Morse che si sta riscaldando andate a spiegare chi leva non lo so il minuto è sinistro, dove ho? non lo so non lo so Faina ma tu pensi di entrare? in campo? Faina vuole stare con me sui spazi e io stare sui spazi ma anche l'allenatore si può portare via a fare una doccia e il cubo è freddo l'ho preso una doccia anche qua mi faccio un bello buona notte capito? un panino intendevi a dire signori uno sfilatino, si ha visto dal gesto te lo mangi? ho chiesto ora c'era chi leva ora c'è una questione oggi siamo in allenatore fai candidato sei tu no, ci ho fatto io non giocavamo non giocavamo non giocavamo a quattro non giocavamo a quattro scusa Zarrino sta giocando male tu sei l'unico destro sulla panchina guarda te, guarda la fascia guarda la fascia non lo sfilata non lo sfilata ma non lo sfilata non lo sfilata non lo sfilata abbiamo scoperto gli schemi che li fa allora ahahahah a derla a derla che lo fa eeeh un uomo e la sua viscica se ha riscaldato troppo i liquidi baci ai sinali è tutto per il momento